E' la festa delle donne, ma la prova d'amore a Ignazio gliela dà Cecilia. Che ne pensate? Amore, ma per la festa della donna cosa mi regali? Non fammelo dire davanti a tutti. Stai diventando abbastanza volcara, ti dico ultimamente. Non c'è il miglior regalo che sicuramente una notte di passione. Taggo la mia mamma così. Ti farei piacere che mia mamma vede questa storia? Signora Carla, sono innamorato di suo figlio e ho promesso a lei di amarlo per sempre. E quindi è questa anche una forma di amore. Con questa prova d'amore sicuramente la mamma di Ignazio, la signora Carla, sarà molto tranquilla. Tranquilla, tranquilla.